Ben trovati al TG7 Basilicata. Nel Foggiano la Guardia di Finanza ha scoperto una piantagione di cannabis in località Schiapparo, a Lesina. Circa 300 le piante da cui, secondo le fiamme gialle, si sarebbero potute ricavare 30.000 dosi di marijuana per un valore complessivo di circa 200.000 euro. Arrestato un 24enne con precedenti penali sorpreso a innaffiare e curare le piante. Il generale di corpo d'armata Maurizio De Talmo Mezzavilla, comandante interregionale Carabinieri Ogaden, ha visitato oggi il comando provinciale di Matera. Nella caserma Maggiore Rocco Lazzazzera, Mezzavilla ha incontrato il comandante provinciale, il colonnello Roberto Lerario, i comandanti delle compagnie militari in servizio e in congedo. Il generale ha incontrato anche il procuratore della Repubblica Pietro Argentino e il presidente del Tribunale Giorgio Pica. Vediamo ora l'intervista di Maria Martinelli alla presidente della Proloco di Filiano, Maria Santarsiero, a conclusione degli eventi estivi organizzati a Filiano. La presentazione di questa sera chiude un po' tutti gli eventi del calendario estivo filianese. Quali sono stati quelli che lo hanno caratterizzato? Sì, diciamo questo di questa sera racchiude un po' il calendario estivo. Come organizzazione, come Proloco, come associazione abbiamo puntato quest'anno un po' più sulla qualità che sulla quantità, nel senso che gli altri anni abbiamo fatto più eventi dove c'era il coinvolgimento di più pubblico. Purtroppo con le restrizioni abbiamo dovuto un po' snellire e sicuramente abbiamo dato spazio alla cultura, all'arte, alla musica e diciamo che alla fine siamo riusciti a portare a termine quello che era stato il nostro programma iniziale. Il meteo di domani 2 settembre. Bel tempo con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare innocue velature in transito e qualche cumulo diurno in appennino. Temperature stabili o in lieve diminuzione. Il Tg7 Basilicata termina qui. Ci vediamo domani per una nuova edizione. Grazie.